Non c'è nessuna pensione, non c'è la malattia, non ci sono le ferie, non c'è un TFR, non c'è niente, praticamente sono quelli i soldi e basta. Io sono Tania, sono di Bologna, ho 47 anni. Chiamo Domenico, ho 40 anni, tre piglie, divorziato. Faccio la rider ormai da quasi tre anni. Ci sono cinque anni che lo faccio. Tu vieni pagato in funzione delle effettive consegne che fai, non delle ore di lavoro. No, no, le consegne che faccio. A Cottimo non è a ore, cioè io posso stare dieci ore, fare due consegne e prendere dieci euro. Tu ti metti là, ti metti in centro, accendi la tua applicazione, vai online e aspetti, sperando che arriva qualcosa. È arrivata quattro euro e questo mi sa che è verso la stazione, devo fare quasi sei chilometri. Praticamente sta consegna mi va via una mezz'ora. Oggi hai guadagnato sette ore e noventù, tutto il giorno, a che ora hai iniziato a lavorare? Alle sei fino alle undici di notte. Non c'è nessun contributo che viene versato, zero contributi, zero tutto, garanzie, come che lavori ma è come che non lavori. Non si può arrivare a immaginare di ottenere una pensione. Ma che pensione, cioè io ho avuto dei miei amici che mi hanno detto ma perché fai sto lavoro? Io gli ho risposto ma avete provato a mandare un curriculum a 47 anni, poi gli dico faccio la rider? Cioè io sono questo lavoro, posso solo fidarmi di questo. Ci sono giorni che veramente è dura. A me è capitato di stare anche due o tre ore fuori per un ordine. Con tre ore fuori per guadagnare tre o quattro euro, cosa gli do io da mangiare le mie figlie? A me è capitato di stare anche due o tre ore fuori per un ordine.